Mi chiamo Trevisani Marcello, sono il titolare dell'azienda 2001 Impianti, che operiamo nel settore della termoidraulica dagli anni Ottanta. Buongiorno, mi chiamo Mattia Trevisani, sono suo figlio. Siamo di San Giovanni Persiceto, provincia di Bologna, è un territorio dove si mangia molto bene. Secondo me il nostro lavoro è fondamentale appunto per portare efficienza nelle case, negli impianti e che trasmette anche secondo me sicurezza comunque, sicurezza magari di stare al caldo d'inverno e al fresco d'estate. Io ho sempre creduto in Wisman da quando l'ho conosciuta, che è stato negli anni 90, quindi dopo circa 10-15 anni che avevamo iniziato la nostra attività, perché l'ho ritenuto un'azienda sempre molto avanti, con i tempi, che ha sempre strizzato l'occhio alla tecnologia, alle nuove energie. E quindi ci ho creduto e questo mi ha portato, diciamo, ad avere un certo tipo di clientela che guarda al discorso ambientale e ci troviamo molto molto bene. La caratteristica della nostra azienda secondo me è l'affidabilità. Nello specifico intendo che la nostra azienda offre un servizio H24 365 giorni l'anno di assistenza. Ciò significa che anche il giorno di Natale, Pasqua, Ferragosto, qualsiasi giorno dell'anno c'è sempre almeno un dipendente disponibile a venire a eseguire un intervento d'emergenza. Per fare un esempio, anni fa è successo che ci fosse una caldaia da sostituire in un condominio, il lavoro è iniziato la notte della vigilia e la mattina di Natale avevano già il riscaldamento funzionante.